Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questa edizione di Teleitalia. Vediamo un sondaggio sulle intenzioni di voto politiche nazionali fatto dalla società TP. Vediamo che il primo partito è la Lega di Matteo Salvini con il 32,5%. Secondo partito il PD di Nicola Zingaretti con il 20,2%. Terzo partito Movimento 5 Stelle con il 15,6%. Quarto partito Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni al 10,6%. Forza Italia di Berlusconi al 5,8%. Italia Viva di Matteo Renzi al 4,3%. Sinistra al 2,3%. Azione di Calenda al 2,2%. I Verdi all'1,4%. Più Europa 1,4%. Partito Comunista 1%. Altri partiti 2,7%. Io vi ringrazio per avermi ascoltato. Vi invito ad iscrivervi al canale. L'iscrizione è assolutamente gratuita. Non comporta nient'altro che un aiuto al canale ad essere più visibile. E nella community dello stesso trovate tanti sondaggi a cui poter partecipare e commentare. Siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia, dove trovate tutti gli stessi video presenti su YouTube, che potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.